ehi dai non fare il pigro ricordati di iscriverti al canale e clicca la campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video ciao ragazzi bentornati sul canale siamo qui finalmente arrivati con l'ultima top 10 dei pg per classe 2020 siamo giunti al capitolo finale ovvero i tecnici abbiamo trattato tutte le classi con vari dibattiti come giusto che sia e siamo arrivati all'ultima classe per chiudere il cerchio ovvero appunto quella dei tecnici tecnici classe molto interessante classe diciamo che ha delle caratteristiche peculiari come l'immunità piuttosto che il controllo a potere ci sono pg davvero davvero forti anche molto recenti e quindi andiamo subito bando alle ciance a partire con la prima posizione posizione quindi numero 10 della classifica dei tecnici per il buon dark hawk allora dark hawk pg interessante poiché rientra anche se con delle riserve ovvero la l'abilità chiave è molto importante soprattutto deve essere anche ad abilità molto alta in questo caso è un pg che è ottimo sia in attacco che in difesa poiché ha capacità di fare grandi danni io purtroppo c'è lo singolo il mio quando l'abilità chiave è sbloccata ed è come tutti sappiamo molto rognoso in difesa ma innanzitutto è un doppio immune quindi immune ad avvelenamento e sanguinamento penetra armatura con gli attacchi ala e ha questa fastidiosissima modalità scudo che se dark hawk viene messo al tappeto abbandona qualunque modalità per entrare in modalità scudo questo cambio di modalità non subisce gli effetti di riduzione della precisione quindi non si può evitare e praticamente la modalità scudo conferisce un'armatura una fase armatura molto molto potente che riduce praticamente tutti i danni critici inoltre se dark hawk blocca un attacco contatto mentre modalità scudo provoca anche shock che infligge un tot di danno energia poi ha questa rigenerazione a spazio nullo che se entra una modalità diversa da quella corrente quindi quando cambia modalità rigenera anche un tot di salute l'abilità chiave che è appunto molto importante sia in attacco che in difesa conferisce a dark hawk la possibilità di autobloccare quando è in modalità scudo e questo è molto molto rognoso in difesa quindi se è in modalità scudo dovete stare molto attenti al suo autoblocco per quanto riguarda l'attacco invece la modalità spazio nullo conferisce un bel po rating attacco quindi è qui che si aumenta di molto l'attacco e la modalità furtiva conferisce anche un tasso potere maggiore l'attacco speciale 2 di dark hawk abbandona qualunque modalità per entrare nella modalità furtiva la modalità furtiva praticamente gli consente di ridurre le crescite potere difensive avversarie e in più gli attacchi leggeri e medi in arrivo hanno probabilità per il 30 per cento di andare a vuoto quindi è una sorta di intangibilità quindi se combiniamo l'immunità il fatto che da doppio sia molto più forte in attacco perché aumenta di molto il danno e attiva la possibilità di autobloccare in una delle sue modalità ha una rigenerazione ogni volta che passa da una modalità all'altra e dopo la speciale 2 ha anche la possibilità a livello difensivo di mandare gli attacchi a vuoto questo fa sì che sia un campione abbastanza completo diciamo che necessita di un certo investimento perché appunto dovete idealmente doppiarlo e dargli anche molte pietre però devo dire che come doppio immune avere un pg che sia versatile e forte performante sia in attacco che in difesa è sicuramente un plus quindi assolutamente posizione numero 10 meritatissima per dark hawk posizione numero 9 ve lo faccio vedere tre stelle perché ho accesso alla sua abilità chiave il buon iron man infinity war allora uscito diciamo in concomitanza con cap infinity war che l'ha un pochino eclissato ma devo dire che anche iron man infinity war è un pg di tutto rispetto allora sicuramente è molto 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 cararmato ovvero è un pg che ha tantissima resistenza molto difficile da buttare giù e anche qui si sta parlando di un pg che può essere utilizzato con successo sia in attacco che in difesa allora con la sua armatura molecolare passiva la chance fino al 24 per cento di attivare un'armatura passiva quando attacco viene colpito da un attacco aumentando il rating armatura e la chance di attivazione viene ridotta per ogni armatura passiva già in corso quindi più si va avanti minore la chance di attivare armature inizia lo scontro con un'istanza di armatura molecolare e la resistenza critica aumenta di molto in base al livello di armature molecolari quindi praticamente più armature avete più veramente siete dei cararmati e la resistenza critica quindi i colpi critici non vi fanno più nulla ogni effetto armatura attivo su iron riduce del 18 per cento l'efficacia di assorbimento potere furto potere brucia potere quindi più ha armature più è difficile rubargli potere dopo aver ottenuto il numero di istanze di qualunque effetto armatura pari a 4 iron man una chance per al 100 per cento di autobloccare il prossimo attacco questo lo rende molto rognoso in difesa perché se non siete in grado di evitare che aumentino le sue armature quindi con squarcio armatura hanno un lamento di buff eccetera quando arriva a quattro istanze armatura vi autoblocca il primo attacco e quindi nel caso di war vi stordisce ed è un grosso problema ovviamente ogni volta che iron man riceve un effetto squarcio armatura perde un'istanza di armatura e quando attiva l'armatura molecolare conferisce immunità a sangue e ondata di freddo quindi in sostanza se giocate bene tenete sempre le armature attive siete praticamente anche immuni a sangue e ondata di freddo che è sicuramente un plus un'altra caratteristica molto importante e molto figa di iron man infinity war è questa degli attacchi repulsori ovvero il primo colpo medio il primo colpo pesante e il secondo e il quarto attacco leggero quindi queste sono le tipologie di attacchi interessati da questa abilità sono a repulsore mi prendo non sono attacchi da contatto i colpi repulsori non impattano non possono essere evasi quindi evadono le evasioni e infliggono danni energia anziché fisici i colpi repulsori su avversari con shock e incenerimento in corso fondono questi due in un nuovo debuff plasma e questo è la principale fonte di danno di iron man infinity war dovete riuscire a combinare questi attacchi repulsori con shock e incenerimenti che poi applicherete per unirli in questo debuff plasma che infligge parecchi danni i colpi repulsori rinnovano la durata dei debuff incenerimenti e del plasma quindi con gli attacchi repulsori mantenete sempre attivi i vostri debuff e i colpi repulsori su avversari con effetti shock o plasma in corso fanno accumulare zero potere quindi se avete plasma in corso sull'avversario o shock e usate i vostri attacchi repulsori non fate prendere potere all'avversario con l'attacco pesante praticamente il primo colpo del repulsore ha tutte le caratteristiche di un attacco repulsore e aumenta il rating attacco il secondo colpo invece infligge squarcio armatura quindi aumenta i vostri danni e il terzo e ultimo colpo praticamente non è bloccabile infligge un blocco guarigione quindi sicuramente una pesante che fa parecchie cose gli attacchi speciali di iron man vi consentono di praticamente creare questo mix per infliggere il plasma inoltre infligge il primo attacco speciale 1 infligge blocco guarigione infligge shock e l'attacco speciale 2 invece serve a incenerire quindi la combinazione di queste special con gli attacchi repulsori vi consente di applicare vari debuff e fonderli per il plasma che è quello che vi consente di fare il maggior danno inoltre con l'attacco speciale 3 avete chance al 100% di infliggere uno squarcio armatura veramente veramente tosto che dire quindi di Iron Man Infinity War un ottimo difensore ancora adesso nonostante ci sia Corvo che se lo mangia ma è sicuramente un pg molto rognoso se messo su uno di armatura più eccetera in attacco ha delle immunità se state in armatura ha un buon danno nel tempo se riuscite ad applicare plasma è veramente veramente un carro armato quindi potete prendervi sicuramente degli schiaffi senza troppi problemi tutto questo mix di utilità e un danno discreto soprattutto adesso che c'è anche una fighissima sinergia con Spider-Man furtivo che consente di fare molto molto più danno col plasma sicuramente fan sì che nella classe tecnica sia un pg assolutamente di tutto rispetto che secondo me si merita assolutamente la posizione numero 9 della classifica alla posizione numero 8 io metto un campione amato da molti e abbastanza disprezzato da altri che è il buon Dr. Octopus allora non starò qui a spiegare Dr. Octopus nel dettaglio perché è un pg abbastanza complesso a livello di scheda ha queste praticamente ricerche scientifiche che vanno ad accumularsi a aumentare di valore per poi arrivare a essere completate e sbloccare varie abilità quello che serve sapere di Dr. Octopus è sicuramente il fatto che sia uno dei migliori controllo a potere del game questo grazie alla scoperta fisica categoria di ricerca fisica ovvero infatti si sviluppa man mano che l'avversario accumula potere quindi Doc Ock è ottimo da utilizzare in tutti quei contesti in cui ci sono delle crescite potere esterne sui vostri avversari il danno dell'attacco speciale avversario si riduce del 50% e la scoperta di questa categoria di ricerca applica un debuff blocco potere della durata di 5 secondi questo debuff blocco potere può essere refreshato può essere ricaricato riazzerato con l'attacco pesante che rimuove tutte le scoperte del secolo infliggendo un tot di danni per ogni scoperta del secolo rimossa praticamente voi fate in modo da avere questo blocco potere sull'avversario lo continuate a tenere attivo con attacchi pesanti e speciale 1 che resetta la durata di qualsiasi effetto scoperta del secolo e se non ci sono scoperte del secolo attive attiva la scoperta del secolo della categoria più alta quindi voi applicate il vostro blocco a potere con attacco pesante e speciale 1 lo rinnovate e avete praticamente un blocco potere permanente sull'avversario inoltre stessa cosa con la categoria di ricerca chimica che invece però piazza un blocco guarigione inoltre con l'abilità chiave di Doc Ock siete in grado anche di recuperare della vita quindi oltre a un blocco guarigione è un vero e proprio furto vita che dire Doc Ock è un pg molto divertente che ha delle bellissime animazioni è abbastanza buono a livello di statistiche sia come vita che come danno ha un'utilità mostruosa contro tutti i pg che hanno crescite potere quindi veramente se usato nella maniera corretta è un controllo a potere alla strenua di magic, visione eccetera in più ha un danno onesto niente di incredibile ma assolutamente decoroso per un pg che ha queste utilità così particolari quindi blocco guarigione, blocco potere, se volete investirci un po' di tempo a capire bene i suoi funzionamenti e a sfruttarlo al meglio sicuramente vi porterà un gran beneficio in difesa non è un gran che ma ha delle special soprattutto la special 2 che all'inizio se non si è pratici un po' con visualizzare i massi che vi lancia con i tentacoli può essere fastidiosa inoltre ha delle animazioni un po' particolari, un po' strane con i tentacoli che ad esempio chi usa quake può mandare un po' in confusione che dire sicuramente un pg un po' sottovalutato perché è un po' difficile da comprendere quindi molti lo hanno slobato per questo ma se si capisce come utilizzare le sue utilità di base migliori che sono sicuramente il blocco a potere e il blocco guarigione è sicuramente un pg che può aiutarvi molto quindi assolutamente posizione numero 8 per me e per il buon Dr. Octopus Passiamo ora ad un altro robottone immune posizione numero 7 per Sentinella Sentinella, pg che eravamo stufi di affrontare per Haku ma anche come pg da usare è assolutamente una bella bestiola anche Sentinella essendo un robot robotica avanzata quindi totale immunità ad avvelenamento e sanguinamento diciamo che la classe tecnica è piena di pg immuni l'abilità chiave di Sentinella la guardiamo subito perché è molto molto importante diciamo che Sentinella per essere sfruttata al meglio bisogna di arrivare a questa sua analisi completare questa sua analisi e l'abilità chiave consente praticamente a Sentinella che quando il bersaglio attiva un attacco speciale che corrisponde a quello attivato in precedenza quindi attiva due attacchi speciali uguali di seguito riceve 20 cariche analisi le abilità che fanno perdere potere a Sentinella sono anche meno efficaci quindi questo vi consente di arrivare molto più velocemente a completare analisi e quindi sfruttare il massimo potenziale di Sentinella infatti analisi è diciamo il fulcro del pg la Sentinella monitora il bersaglio quando l'avversario effettua la stessa mossa consecutivamente ottiene 4 cariche analisi di base queste mosse includono attacchi leggeri, medi, pesanti, scatti in avanti eccetera eccetera il numero massimo di istanze è 100 essendo stata progettata per dare la caccia ai mutanti Sentinella ottiene il doppio delle cariche quando affronta un mutante quindi affrontare Sentinella con un mutante non è una buona idea e quando usate Sentinella volete affrontare più mutanti possibili quindi praticamente i mutanti fanno sì che le cariche analisi vengano prese molto più velocemente gli attacchi speciali costano 0,25 in meno per ogni carica analisi il rating armatura aumenta per le cariche analisi così come la resistenza critica e il rating attacco quando si arriva a completare l'analisi e questo è il punto focale del pg quando il numero di cariche analisi massimo ottiene le seguenti abilità quindi gli effetti relativi alla speciale 1 e alla speciale 2 si attivano anche quando il bersaglio blocca molto interessante mentre carica una pesante Sentinella diventa inarrestabile per un tot e mentre è sotto shock però l'avversario sotto shock non può divenire inarrestabile quando Sentinella infligge shock, incenerimento, blocco guarigione o squarcia armatura aumenta la durata del 100% l'attacco pesante infligge shock l'attacco speciale 1 infligge un blocco guarigione e i colpi successivi hanno la probabilità per il 50% anche di squarciare armatura quindi aprire le difese dell'avversario per fare molto più danno l'attacco speciale 2 provoca un copioso incenerimento sull'avversario quindi danno energetico e azzera la probabilità di blocco perfetto riduce super blocco l'attacco speciale 3 ottene un buff armatura potentissimo che aumenta di tantissimo il buff armatura e se Sentinella ha già un buff armatura più passivo questo viene consumato rigenerando anche un tot di salute che dire quindi di Sentinella? allora PG super car armato immunità, ottimo danno utilità di blocco guarigione veramente fortissimo contro i mutanti quindi se volete un immune che però vi dia anche possibilità di fare tanto danno Sentinella è infatti un PG perfetto per affrontare il cross post di 6.1 dove ci vuole un immune che però faccia anche tanto danno è un PG che in difesa può essere fastidioso perché quando completa analisi diventa veramente veramente tosto da tirare giù è un PG molto completo è un po' strano a livello di animazione a me non fa impazzire troppo grosso un po' legnoso però veramente un PG assolutamente super affidabile col buff armatura può anche essere un counter per Avok è veramente veramente un PG molto 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 forte quindi nella categoria degli immuni molto in alto assolutamente posizione numero 7 meritatissima per il robottone Sentinella oh qui andiamo un po' più in alto e andiamo a parlare di un PG che io ho fieramente a rango 5 ovvero per me la posizione numero 6 se la merita il buon Misterio PG che fa un po' tutto non lo fa al meglio ma è sicuramente sicuramente degno di nota allora altro PG che rientra nella categoria buono in attacco buono in difesa motivo per cui l'ho fatto R5 principalmente per difesa cosa fa Misterio? innanzitutto è uno dei PG che ha accesso a due cose molto interessanti e con molta molta facilità ovvero l'avvelenamento in quanto con gli attacchi pesanti consuma il suo gas chimico e provoca un debuff avvelenamento che veramente fa tantissimo danno se fate attacco pesante con tre istanze di gas chimico soprattutto dopo Speciale 3 andremo a vedere veramente il danno di avvelenamento è enorme e ha veramente un accesso ad avvelenamento molto 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 semplice altra cosa a cui ha accesso in maniera davvero davvero semplice è il blocco guarigione ovvero completando una combo con il quarto attacco leggero ha probabilità per il 100% di provocare un blocco guarigione che impedisce di avvelenare l'avversario per un secondo la durata del blocco guarigione aumenta di due secondi per ogni gas quindi riuscite ad arrivare veramente a un tempo interessante l'Attacco Speciale 1 ha una meccanica molto molto divertente e ancora poco sfruttata che è questa sorta di limbo un po' come quello di Magic ovvero praticamente attiva questo gas riflettente consumando il solito gas chimico e quando scade questo timer dopo la Speciale 1 riflette tutto il danno che gli è stato fatto nel corso di tempo nel tempo in cui c'era il timer rigenerandolo quindi praticamente voi fate la Speciale 1 se poi vi fate picchiare allo scadere del timer tutto il danno che avete incamerato in quel periodo lo ributtate addosso all'avversario e voi rigenerate è sicuramente una meccanica un po' complessa da sfruttare ma assolutamente interessante la Speciale 2 ha un debuff di brucia potere non è il miglior brucia potere di sempre ovvero se il PG hanno crescite potere che lo contrastano diciamo che fa poco però siete sicuri con la Speciale 2 di non mandare i vostri avversari in Speciale 3 in quanto glielo drenerete lentamente ma gliene drenerete un bel po' e quindi è un'utilità comunque molto interessante da avere un'altra cosa molto molto interessante di Mysterio è che non si può ridurre la sua precisionabilità questo lo rende un counter perfetto per Domino io lo uso molto spesso in AQ contro Domino in pratica non subite il fallimento critico di Domino non potete avere questo debuff le vostre abilità non possono fallire per questo motivo inoltre è immune lui stesso ad avvelenamento ma se viene messo al tappeto da un eroe del ragno verso o se è sotto gli effetti di un debuff scorcio armatura si rompe il suo elmetto e praticamente questi vantaggi vengono meno un'altra cosa interessante di Mysterio è che quando affronta degli avversari del ragno verso quindi tutti i vari Spider-Man eccetera se sono sotto l'effetto di avvelenamento non possono più evadere quindi countera le evasioni di tutti gli Spider-Man se sono sotto l'effetto avvelenamento il vero danno di Mysterio si ottiene dopo la speciale 3 ovvero dopo la speciale 3 Mysterio ottiene un effetto passivo gas frenetico che dura 10 secondi consuma tutte le stanze gas chimico e aggiunge 4 secondi per ogni carica quando è attivo gas frenetico ottiene tantissimo rating attacco e l'efficacia dei suoi avvelenamenti incrementa nel 300% quindi dopo la speciale 3 veramente fate dei danni enormi sia con i colpi basi che con le special ma soprattutto se riuscite a riaccumulare le vostre cariche gas chimico con attacco medio dopo la speciale 3 e fate un attacco pesante con 3 stanze di gas chimico veramente il mio a rango 5 arriva a fare 1300 a tick di danno da veleno veramente veramente tanta roba l'abilità chiave di Mysterio non è fondamentale ma è utile perché genera un gas chimico ogni tot secondi in base alla utilità quindi vi consente di arrivare più velocemente al vostro massimo di gas per sfruttare le sue abilità che dire quindi in totale di Mysterio un ottimo attaccante con delle utilità molto particolari è molto versatile perché ha accesso a veleno ha accesso a blocco guarigione ha rubo a potere ha una meccanica di riflessione del danno che è molto utile in difesa è per questo che è un ottimo difensore poiché se vi fa la speciale 1 dovrete aspettare ad attaccarlo che sia scaduto il timer altrimenti vi riprendete il danno indietro e non gliene fate e quindi è un difensore che molto spesso vi mette all'angolo ha la brutta abitudine come intelligenza artificiale quando lo affrontate di sparare pesanti un po' a caso e se vi prende un attacco pesante molto veloce vi fa un grandissimo danno da veleno può counterare delle evasioni quindi è veramente un PG completo completo non fa tutto benissimo perché il rubo a potere non è eccezionale come altri controllo a potere top ma avere una sorta di coltellino svizzero che abbia tantissime utilità e dopo speciale 3 anche accesso ad un'enorme quantità di danno è assolutamente un plus quindi Mysterio per me ottimo PG e si merita assolutamente la posizione numero 6 della classifica dei tecnici posizione numero 5 per un PG semplicissimo ma che mi ha veramente veramente salvato le chiappe in tantissime circostanze fierissimo di averlo preso con le unità ed averlo portato a rango 5 ed è il buon Visione allora su Visione c'è veramente pochissimo da dire è uno dei migliori controllo a potere del gioco doppio immune immunità a sangue e a veleno e con la sua abilità chiave che è fondamentale assolutamente non rangatelo non prendetelo se non lo potete svegliare ovvero sintesi sintetizza un tot di potere a inizio scontro e ogni tot secondi quindi praticamente con il mio Visione ad abilità 183 io inizio ogni volta lo scontro con quasi due barre potere un Perry e una combo da 5 sono a due barre potere praticamente è come se aveste sempre fisso il boost potere ed è una roba veramente devastante voi siete sempre in controllo perché? perché l'unica cosa che fa Visione fa due cose fondamentalmente ruba potere e blocca guarigione ovvero l'attacco speciale 1 consuma 39% del potere massimo e infligge danni diretti proporzionati l'attacco speciale 2 consuma tutto il potere quindi 100% ed è quello che si fa più spesso l'attacco speciale 3 consuma fino al 33% del potere massimo del bersaglio ovviamente come sempre il danno di Visione sulle speciale è proporzionale in base a quanto potere rubate e se con l'attacco speciale rubate potere in modo da zerare il contatore quindi di mandare il potere dell'avversario a zero infliggete anche un blocco guarigione quindi sostanzialmente con la speciale 2 siete certi di applicare anche il blocco guarigione rubare tutto il potere e applicare il blocco guarigione il danno non è assolutamente un granché di Visione non è un PG da danno anche se il suo danno può essere aumentato con la sinergia con Void con Nick Fury comunque ci sono dei modi per pomparlo un po' ma è sicuramente un PG di un'affidabilità mostruosa per quanto riguarda il controllo a potere sarete certi con un Visione abilità abbastanza alta di avere sempre sempre più potere dell'avversario di tenere comunque sempre gli avversari a zero tutte le crescite potere affrontare Hyperion qualsiasi PG che faccia del buff potere la sua forza tutti i path con crescita potere in vari atto 6 eccetera eccetera veramente con Visione ve li mangiate un PG che non mi sono assolutamente pentito di avere svegliato portato R5 appunto averci anche investito queste unità per prenderlo perché si può prendere solo con il bando l'unità Visione assolutamente assolutamente un top per quanto riguarda le utilità posizione numero 5 straguadagnata per il buon Vision cominciamo a salire cominciamo a salire siamo alla posizione numero 4 quasi podio per un PG che sto cercando disperatamente 5 stelle da una vita per completare la triade di Blade ma il gioco non si degna di darmelo ovvero vi mostro i 4 stelle il buon Spider-Man potenziamento Stark allora Sparky lo conoscono anche i Sassi molto velocemente un PG dalle enorme capacità di danno e da utilità veramente interessanti la sua debolezza il suo contro è quello di avere poca vita essere un PG con cui dovete stare molto attenti ai blocchi soprattutto in atto 6 dovete essere molto bravi a intercettare idealmente per usarlo al meglio ma assolutamente il danno e l'utilità che porta sul tavolo compensano questa sua fragilità Spidey Stark si basa tutto su questo sistema delle beffe ovvero ogni volta che evade un attacco usando il dominio destrezza ottiene una carica stabilità ogni carica stabilità aumenta il rating attacco quindi il danno enorme di Spidey Stark si raggiunge con il massimo di numero di cariche che è 10 quindi facendo 10 evasioni con destrezza o anche evasioni sue si prendono queste cariche che danno accesso al massimo del danno se Spider remette a segno 5 attacchi di seguito converte una di queste cariche in uno sberleffo un avversario sotto l'effetto di sberleffo subisce una riduzione pare al 40% dell'attacco e ha il 70% in più di probabilità di scaricare di attivare un attacco speciale quindi in sostanza se affrontate anche nodi ad esempio tutto o niente con sberleffo li potete evadere perché con sberleffo attivo gli avversari sono molto propensi a scaricare le loro special un'altra delle abilità molto interessanti di Spider-Man che gli è conferita dalla sua intelligenza artificiale è quella che in caso di attacchi speciali se l'intelligenza Stark è attiva ha una probabilità di evasione automatica del 60% ovvero con Spider-Man Stark e l'intelligenza attiva avete il 60% di chance di evadere automaticamente le special quindi tutti i vari raggi i vari proiettili voi ve ne fregate perché Stark ve ne fregate quasi perché Spider-Stark ha il 60% di probabilità di evaderle automaticamente quando viene colpito però da un campione cosmico o da un attacco pesante si disattiva la sua intelligenza artificiale l'attacco speciale 1 ha probabilità del 50% di stordire l'avversario e diciamo diventa del 100% quando l'intelligenza Stark è attiva l'attacco pesante è molto interessante perché una volta ogni 30 secondi di cooldown assorbe il 45% del contatore potere quindi se avete paura o se siete in procinto di mandare l'avversario speciale 3 vi basterà fare un attacco pesante per ridurgli il potere assorbigli il 45% del potere attenzione che ci sono 30 secondi però di cooldown l'attacco speciale 2 è la più grande fonte di danno a livello di special di Spider-Stark ovvero provoca shock uno shock veramente copioso oltre a un danno molto forte nei critici dei vari colpi della ragnatela l'attacco speciale 3 probabilità per il 100% di intrappolare all'avversario quindi i campioni intrappolati subiscono una riduzione della precisione abilità pari al 30% e non possono attivare effetti di evasione passiva quindi anche una sorta di counter per le evasioni l'abilità chiave di Spark è molto molto importante perché ha due componenti una che si attiva con salute superiore al 50% e una che si attiva con salute inferiore al 50% quindi una delle due è sempre attiva quando avete salute superiore al 50% gli sberleffi di Spider-Man durano due secondi in più e ogni carica stabilità fornisce più attacco quindi il danno aumenta di molto quando invece siete sotto al 50% di vita aumenta la probabilità di evasione degli attacchi da parte di Spider-Man e in più conferisce anche un tot al super blocco quindi una componente è più offensiva l'altra è più difensiva ma è sicuro che la differenza di danno soprattutto tra uno Spider-Man Stark doppio e uno singolo si sente e come quindi che dire attaccante mostruoso veramente un PG da mille utilità e da tantissimo danno richiede un attimino di rampa all'inizio perché dovete idealmente caricare le 10 cariche stabilità per avere il massimo del danno una volta che ci siete poi le altre si mantengono abbastanza facilmente avete accesso a stordimento ruba potere enorme danno su colpi base enorme danno anche da shock con la special 2 capacità di avere auto evasione delle speciali quindi che dire assolutamente ancora nel 2020 Spidey Stark risulta veramente un top nonché fa parte della triade con Blade e Ghost Rider che fa sì che Blade abbia più efficacia al senso del pericolo e lui inizia lo scontro con 3 cariche stabilità anziché 0 quindi sicuramente un altro plus facendo parte di una triade con 2 PG veramente veramente forti assolutamente meritatissimo il quasi podio quarta posizione classifica tecnici 2020 per Spider-Man Stark siamo al podio siamo al podio e sul podio io ci metto un PG che ovviamente non possiedo l'unico PG che non possiedo tecnico che è Guillotine 2099 allora Guillotine 2099 è un mostro di PG uscito abbastanza recentemente è definita la nuova Starlord in quanto ha questo sistema di accumulo delle combo e di aumento dell'attacco sulle combo diciamo che senza stare a guardare tutta la scheda di Guillotine che è abbastanza complessa quindi vi invito a leggerla con attenzione vi dico un po' quali sono i suoi punti di forza ovvero innanzitutto anche lei è un immune è immune a avvelenamento e sanguinamento quindi super plus ha questo sistema di cariche persistenti che vengono chiamate anime digitali che praticamente le consente di avere accesso alle sue abilità ha l'abilità di non mettere a segno colpi critici questo la rende un counter perfetto ad esempio per sinistro o per inolio armatura chiudata ma ogni volta che infliggerebbe un colpo critico invece infligge una degenerazione una degenerazione veramente importante se contiamo anche che degenerazione è uno dei debuff chiamiamoli così a cui veramente nessuno è immune a Palteur quel Kragnarog che riesce a rigenerare i danni è veramente veramente un plus inoltre ha la capacità con i suoi potenziamenti della spada di avere delle abilità diverse con la spada funzione cacciatore funzione costanza o assalto con la funzione cacciatrice l'attacco numero 20 i suoi multipli sono colpi critici garantiti nel senso che sono degenerazioni quindi garantite in caso speciale 1 e 2 tutti i colpi sono critici la funzione costanza è una funzione di salvaguardia quindi quando ha più di 99 colpi sul contattore combo i medi fanno un furto vita quindi rigenera e la funzione assalto quando ha più di 99 colpi sul contattore combo gli attacchi medi bruciano potere con gli attacchi pesanti ottiene un effetto scudo combo quindi si protegge la sua combo perché? perché Guillotine ha la capacità di aumentare appunto il danno e sbloccare la sua abilità in base al suo contattore combo il rating attacco infatti aumenta di un tot per ogni colpo sul contattore combo con un limite massimo di 100 colpi con una combo da 100 o più colpi la spada diventa potenziata infigge danni energia diretti per ogni colpo oltre al 100 quindi si va ad aggiungere dell'ulteriore danno con l'attacco speciale 3 cosa molto interessante se l'avversario non ha più di 5% della propria salute quindi se l'avversario è dal 5% di salute in giù viene messo istantaneamente KO questo va da sé che su PG magari di labirinto di abisso comunque PG che hanno tantissima vita il 5% è un'enorme quantità di danno e quindi sotto al 5% con la speciale 3 siete sicuri di metterlo a KO e se Guillotine ha usato questo attacco per mettere KO l'avversario quindi se chiude lo scontro con la speciale 3 ne assorbe l'anima e inizia lo scontro successivo con già 100 colpi sul contatore la speciale 2 ha una priorità per il 100% di provocare un debuff spettro che è un po' come quello di Guillotine classica che riduce le rigenerazioni quindi ha un counter per le rigenerazioni che dire nuovo PG di riferimento per l'aumento di danno sulle combo insieme a Dagon PG che ha tantissimo danno se rampato immunità capacità di non fare critici quindi evadere nodi rognosi ma infliggere la rigenerazione che è una sicurezza ha capacità di avere rigenerazione furto vita con la speciale 2 inverte le rigenerazioni mette istantaneamente KO i PG che sono sotto al 5% di vita e ha anche un ruba potere con la speciale 1 quindi che dire completissima veramente tutti dovrebbero avere un PG del genere nel proprio roster infatti spero di trovarla presto ottima per gli scontri lunghi sicuramente perché va rampata ottima anche in war fastidiosa in difesa per il manto digitale che consente di mandare a vuoto gli attacchi e poi vi ruba sempre potere con la 1 quindi è veramente veramente rognosa da affrontare quindi anche discreto difensore che dire assolutamente un'ottima aggiunta al game secondo me numero 3 podio assolutamente meritatissimo per Guillotine 2099 siamo alla medaglia d'argento medaglia d'argento dei PG tecnici per il buon Warlock già lo avevo messo come PG migliore uscito nel 2019 secondo me e anche nella classifica tecnica assolutamente non fa eccezione Warlock è un PG esagerato un'arma da utilità pazzesca immune a sanguinamento avvenamento andata di freddo e morso ghiacciato inoltre ha questo buff armatura più quindi counter assoluto per Avok che dire si basa su questo sistema di infezioni quindi applica queste cariche virus che poi si trasformano in infezione ogni volta che un avversario è sotto infezione subisce un blocco guarigione e se attivo il dominio balsamo viene rimosso 30% in meno la precisionabilità offensiva e ogni volta che guadagnerebbe salute durante l'infezione subisce anche un assorbimento potere se avete l'abilità chiave cosa non fondamentale ogni volta che assorbite potere all'avversario gli infliggete anche una degenerazione quindi un plus in più al danno di Warlock con gli attacchi pesanti squarcia l'avversario quindi infligge un danno da sanguinamento ha un attacco speciale molto veloce molto semplice anche da mettere a segno l'attacco speciale 1 provoca shock e in caso di infezione si attiva anche quando viene attivato l'attacco ma con durata dimezzata il primo colpo rimuove tutte le infezioni e assorbe passivamente il 25% del potere dell'avversario per ogni infezione l'attacco speciale 2 piazza invece uno squarcio armatura importante sull'avversario riducendo il rating armatura di un tot l'ultimo colpo della speciale 2 rinnova anche un'infezione con l'attacco speciale 3 provoca brucia potere che assorbe il 100 potere nell'arco di 5 secondi e 50 e infligge anche danni in proporzione alla quantità assorbita inoltre rigenera un tot di salute per ogni infezione sull'avversario quindi che dire di warlock immunità super sostenibilità capacità di inibire le abilità avversarie di ridurre le rigenerazioni praticamente warlock fa tutto lo fa con una semplicità estrema non dovete fare altro che picchiare mettere le infezioni e poi gli avversari sono fregati veramente un pg anche molto divertente livello di animazioni partito un po' in sordina quando era uscito ma poi il suo valore è cresciuto sempre di più e veramente è diventato uno dei punti di riferimento della classe tecnica ottimo si è trovato 6 stelle perché l'abilità chiave serve veramente a poco quindi è un pg plug and play pronto lo trovate e lo portate ovunque veramente veramente tanta roba warlock assolutamente medaglia d'argento meritatissima andiamo però a vedere chi si nasconde neanche troppo alla numero 1 alla numero 1 ragazzi era abbastanza scontato probabilmente se avessi fatto un sondaggio avrei ricevuto il 100% di pareri su questo pg io ci metto assolutamente vincitrice assoluta della categoria tecnica ma per me anche uno dei pg più forti del game probabilmente a mio gusto il pg più forte del game ovvero fantasma non starò a dilungarmi ci ho fatto una guida completa che vi metterò qui in descrizione se volete andare a vedere che fa fantasma fantasma fa tutto ha una meccanica devastante che è questa dell'intangibilità scattando indietro o a inizio scontro se l'avete doppia diventa intangibile quando è intangibile ha il 100% di abilità che gli attacchi vadano a vuoto e ogni debuff che avete su di voi si ha danni prolungati quindi debuff che infliggono danno prolungato si annulla si leva e si converte in una furia quindi assolutamente il pg perfetto per i suicidi iniziate lo scontro bam vi levate sangue e veleno avete due furie e iniziate a picchiare come i fabbri inoltre durante intangibilità ogni colpo che fate ogni primo colpo che fate è critico ma la cosa veramente veramente devastante è la sua speciale 2 colpendo diciamo facendo i non critici quando non siete intangibili accumulate queste crudeltà ogni volta che fate una speciale 2 ottiene un buff crudeltà che aumenta il rating attacco di un tot rinnova tutti i buff crudeltà generati da fantasma e se l'attivazione è qui il punto cruciale della special 2 avviene durante l'intangibilità quindi se siete abbastanza veloci da attivare la speciale 2 quando siete ancora intangibili ogni colpo della speciale 2 è critico quindi con i suicidi una fantasma r5 e fa una speciale 2 intangibile veramente sono tantissimi tantissimi danni veramente una special devastante tutti conoscono la mega sinergia con wasp che consente a fantasma di avere gli attacchi speciali imbloccabili quindi il gameplay è relativamente semplice una volta capito diventate intangibili vi fate colpire caricate potere se avete l'abilità chiave che accumula un tot di potere quando vi colpiscono l'intangibilità arrivate alla speciale 2 scattate indietro sparate una speciale 2 imbloccabile che farà una sbrega di danni inoltre con gli attacchi pesanti ottiene delle furie quindi utile per rampare ulteriormente il danno l'attacco speciale 1 ottiene precisioni passive ma occhio che non vi permette poi più di diventare intangibili l'attacco speciale 3 ogni buff crudeltà generato si trasforma in qualità permanente quindi questo è buono se volete usare fantasma negli scontri un po' più lunghi ma diciamo che la special 2 è quella che si usa più spesso fantasma ha veramente questa meccanica dell'intangibilità che vi consente di fare interi scontri senza subire un colpo perché è un po' in modo di barare che consente a chi usa fantasma di andare sempre in intangibilità contraattaccare gli avversari in intangibilità e non avere mai accesso ai blocchi non dovete mai fare perry mai parare sempre in tangibilità vi fate colpire e contraattaccate veramente è una meccanica devastante vi fa risparmiare un sacco di risorse per danno da blocco evade anche delle special perché i raggi vengono automaticamente evasi quando andate in intangibile è un pg che è totalmente immune perché si leva tutti i debuff evade le special evade tutti gli attacchi vi consente di giocare senza parare fa una sbrega di danni veramente che dire è un pg completissimo fa parte di questa triade con wasp e wood che le consente di avere le special imbloccabili e con wood non subire danni in intangibilità quindi prendervi special 3 in faccia o se siete abbastanza veloci da scattare indietro appena dopo aver attivato una special vi evade anche il danno da rinculo se avete i suicidi quindi ulteriore caratteristica che la rende perfetta per i suicidi veramente una volta che imparate a gestire la sua meccanica di intangibilità con ghost ci fate di tutto la potete portare in tutti i path ottima per war chiude gli scontri con una facilità estrema ottima per affrontare ice man ad esempio iniziate lo scontro se l'avete doppio vi siete già tolti un'andata di freddo avete la furia non vi beccherà mai con i suoi raggi e gli farete veramente un danno esagerato adoro questo pg l'ho usata tantissimo già da singola adesso che l'ho doppiata e ho wasp la sto sfruttando ancora al meglio non smetterò mai di dire quanto questo pg sia veramente fondamentale per tutti i giocatori che vogliono arrivare a certi livelli assolutamente un top della classe il top la top della classe tecnica ma per quanto mi riguarda anche la top del game posizione numero 1 vincitrice della top 10 dei tecnici 2020 per fantasma bene ragazzi grazie mille di essere stati con me in questo nuovo e ultimo video della top 10 dei pg per classe abbiamo chiuso il cerchio spero che anche questo vi sia piaciuto e scateni un dibattito interessante anche nei commenti magari mi verranno in mente altre top un po' più particolari specifiche per portare avanti questo tipo di format se la cosa vi piace nel frattempo vi ricordo come sempre che se non siete iscritti al canale potete iscrivervi qui cliccare sulla campanella per ricevere sempre le notifiche condividete questo video con amici parenti compagni di alli cani gatti e cincilla ci vediamo presto con nuovi video adesso mi farò venire in mente nuove cose interessanti per voi e anche nuove live per interagire insieme una buona serata a tutti ciao ciao